l'amica dell'artiglia si capisce? eh siamo qua vai quando sei pronto ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova... una cagata no? vai vai puttana cagnata quindi questa classifica io non avrei mai immaginato e io non conoscevo neanche tra l'altro e quindi... non pensavo che potesse rientrare ancora nei più richiesti e adesso andiamo a vederlo nel dettaglio grazie... grazie a cazzo no facciamolo un po' più non vogliamo farvi attendere ancora di più terza posizione abbiamo 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 lui il grandissimo dart feather dal film da... nooo vista dell'uscita del film della settima puntata settima edizione ma vaffanculo e fiato alle trombe prima è troppo esatto abbiamo la versione tazza la versione tazza perché è stato... è stato venduto ieri prima che iniziassimo appunto a pensare al video di... ma vaffanculo beh comunque... sembra una specie di... di oscar in miniatura esatto... ma basta dire esatto non ti coglioni questo esatto ciao ragazzi un saluto da Gabriele un saluto da Stefano oggi facciamo appunto un'altra classifica ma che cazzo sto dicendo e rifacciamolo da capo no no andavo bene ciao ragazzi un saluto da Gabriele un saluto da Stefano e oggi cosa facciamo di bello? oggi facciamo una... cazzo non è la classifica di personaggi perché sono inter... sono transgenerazionali e... io invece non sono andato al cinema a vederlo perché ero troppo piccolo e mia mamma non voleva quindi vedi queste cose io so che ho anche dimorato il cinema con tua mamma aahhh... e perchè? perchè? li facciamo piano terra, piano strada, il mercato, il droghiere e i pezzi che sarebbero per assemblare questo mercato della strada il mercato della strada fa cagare non si sa quanto cazzo è stato prodotto perchè non l'hai scritto no è vero non si sa quanti cazzo di pezzi sarò perchè non c'è scritto fa niente va bene metteremo il sottotitolo ai ragazzi hai visto che oggi ho cambiato il finale del video? no bastante